Parliamo di alcol. Secondo l'Istat, oltre il 21% degli italiani consuma alcolici ogni giorno. Se si parla di consumo occasionale, arriviamo a quasi il 50%. E' come dargli torto, quando ci vuole, ci vuole. Sarà, ma alla salute ci pensiamo mai? Si dice che vino, birra e amari facciano bene e in teoria è vero, ma in realtà ci sono due problemi, qualità e quantità. Gli alcolici in commercio sono prodotti industriali come le bibite e le patatine e non hanno i benefici delle bevande originali, che imitano solamente. E poi se ne consuma troppo, altro che digestivo o antiossidante. Tutti questi drink diventano una mazzata per il fegato. Se la metti così, ma come faccio a rinunciare al mio drink consolatorio? Ci aiutano due amici, zenzero e limone. Guarda che il limoncello è alcolico. Parlo della tisana di zenzero e limone, cosa avevi capito? Ecco i benefici della tisana zenzero e limone per disintossicarsi dall'alcol. Benefici del limone. Il limone, anche se ha un gusto acido, è un cibo alcalino, vuol dire che riduce l'acidità interna del corpo causata dall'eccesso di alcol. Contiene vitamina C, antiossidante, che combatte i radicali liberi dovuti ai danni dell'alcol. Benefici dello zenzero. Lo zenzero protegge l'integrità dei tessuti, combatte l'infiammazione, lenisce le pareti dello stomaco aggredite dall'eccesso di alcolici, attiva il metabolismo e accelera l'eliminazione delle tossine dal sangue. Benefici della tisana zenzero e limone. Bevuti insieme, questi due alimenti hanno un altro straordinario beneficio. Ecco come fare. Per una settimana impegnatevi a bere la tisana zenzero e limone al posto del solito drink ogni volta che vorreste farvi un goccetto. Cioè, ci sbronziamo di zenzero e limone? Se vuoi metterla così, provateci e vedrete. Dopo solo una settimana avrete molta meno voglia di bere e più voglia di stare bene e volervi bene. Portate sempre con voi la tisana zenzero e limone. Basta farla a casa e metterla in un termos. Il vostro fegato ringrazierà e anche linea, pelle, capelli, occhiaie, alito e salute. Vi assicuro che sarete anche molto più trendy e sani. In descrizione trovi link ai miei libri ed ebook. Queste informazioni sono il frutto della mia esperienza personale. Il mio scopo è divulgare. Per saperne di più, leggo in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Iscriviti al canale, metti il tuo mi piace, attiva le notifiche, condividi e grazie per aver guardato questo video. Ciao!